Dicono che c'è un tempo per seminare, è uno che hai voglia ad aspettare, un tempo sognato che viene di notte è un altro di giorno, teso, come un lino a sventolare, c'è un tempo negato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci, c'è un tempo perfetto per fare silenzio, guardare il passaggio del sole d'estate e saper raccontare ai nostri bambini, quando è l'ora muta delle fate, c'è un giorno che ci siamo perduti, come smarrire un anello in un prato e c'era tutto un programma futuro che non abbiamo avverato, è tempo che sfugge niente paura, che prima o poi ci riprende, perché c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo, c'è tempo per questo mare infinito di gente Dio è proprio tanto che piove e da un anno non torno, da mezz'ora sono qui arruffato dentro una sala d'aspetto di un tram che non viene, non essere gelosa di me, non essere gelosa di me, non essere mai gelosa di me, c'è un tempo d'aspetto, come dicevo qualcosa di buono che verrà, un attimo fotografato, dipinto, segnato e quello dopo perduto via, senza nemmeno voler sapere come sarebbe stata la sua fotografia, c'è un tempo bellissimo, tutto sudato, una stagione rivelide, l'istante in cui scocca l'unica fleccia che arriva alla volta celeste e trafigge le stelle, è un giorno che tutta la gente si tende la mano, è il medesimo istante per tutti che sarà benedetto, io credo da molto lontano è il tempo che è finalmente, o quando ci si capisce, un tempo in cui mi vedrai accanto a te nuovamente, mano alla mano, che buffi saremo se non ci avranno nemmeno avvisato, dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare, io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare. Buonasera, benvenute e benvenuti all'edizione 2023 delle iniziative di Amabili Confini. Amabili Confini è un progetto di rigenerazione sociale delle periferie, delle periferie di Matera, mediante la narrazione, è un progetto ideato da Francesco Mongiello e organizzato dall'Associazione Amabili Confini. Al centro c'è la cultura, considerata come un possibile motore di sviluppo, sviluppo umano soprattutto e relazionale, utilizzando la narrazione diffusa e il racconto corale, nell'obiettivo di una crescita sociale della comunità, stimolata a riconoscersi e ritrovarsi in un luogo. E questa sera noi siamo in un luogo che ci ospita e che è all'interno del quartiere di Serra Venerdì. Ringraziamo innanzitutto il parroco che ci ha messo a disposizione questo spazio. Siamo a Serra Venerdì, uno dei quartieri di Matera, uno dei primi quartieri nati in attuazione della legge del risanamento dei sassi, legge del 1952. Serra Venerdì è stata progettata da uno dei più grandi architetti che hanno operato qui a Matera in quel periodo, che era Luigi Vicinato, che aveva fatto anche il piano regolatore della città. Tutta questa operazione era nata in funzione del trasferimento degli abitanti dei sassi in quella che era nominata da allora la città del piano, per poi prevederne il ritorno in un futuro successivo. Le cose sono andate un po' diversamente, con tempi un po' più lunghi. Come forse già sapete, molti di voi seguono queste iniziative da un bel po' di tempo. Amabili Confini propone le sue attività ed è possibile che queste siano realizzate grazie all'intervento e al sostegno di alcuni sponsor. Ringraziamo per questo BCC Basilicata, La Libreria di Giulio, Ego Italiano, Betafin Spa, Toma, Sapa, Prexta, Metera e L'Antincendio. Allora, dopo l'anteprima che ha visto la presenza di Edoardo Albinati un paio di settimane fa, cominciamo questa sera la vera e propria edizione 2023 di Amabili Confini che prevede, proprio nello spirito dell'incontro con il quartiere e con i quartieri, la presenza di scrittori che si sono cimentati, che hanno mandato i loro lavori all'associazione e che stasera speriamo che siano presenti perché ci saranno le menzioni di alcuni testi di poesie e di scrittura narrativa che sono stati selezionati. Ma vi presento subito l'ospite di questa nostra prima serata che è Maria Grazia Calandrone. Maria Grazia Calandrone è una poetessa, una scrittrice, una drammaturga, è conduttrice per la RAI, è un'artista visiva, è una donna insomma, scrive per il Corriere della Sera e tiene laboratori di poesia nelle scuole e nelle carceri. Con la sua opera Splendi come vita nel 2021 era entrata nella dozzina del premio strega di quell'anno. Per Einaudi, l'anno scorso, nel 2022, ha pubblicato Dove non mi hai portata, che è il testo di cui poi discorreremo stasera, e che anche quest'anno è nella dozzina dei finalisti del premio strega. Allora, come dicevo prima, cominciamo con uno spazio, che è uno spazio dedicato proprio alla poesia. C'è una sezione che abbiamo chiamato Amabili Versi, dove le poesie sono arrivate da quartieri di Matera e da tutta Italia su un tema che ogni anno viene scelto coralmente dai soci di Amabili Confini e quest'anno, come avrete capito anche dalla bellissima canzone di Rossati, è il tempo. Il tema di quest'anno è il tempo, quello scelto, e cominciamo quindi con le poesie che sono state scelte, tra quelle pervenute nella sezione poesie dei quartieri. Le poesie sono Non c'è più tempo, di Giulia Scarciolla, se c'è... Giulia, dunque Giulia ha soltanto 12 anni, frequenta la scuola media Nicola Festa, e poi ci dirà qualcosa. La seconda poesia selezionata è Pasquetta 98 di Antonio Calabrese, che ha 31 anni ed è un educatore del Centro Salute Mentale di Genova, e per questioni professionali Antonio non ha potuto essere presente. Non so se sono presenti i genitori che forse avrebbero dovuto esserci, e li salutiamo cordialmente. Terza poesia è Tempo Tranello di Chiara Di Lecce. Allora, Chiara ha 40 anni, è responsabile di amministrazione di una concessionaria auto. Non ve li portate gli amici. E l'aria è buona. Direi che passiamo alla lettura di queste poesie, e invito Andrea Fontanaro. Non c'è più tempo. Ora non c'è più tempo. Tempo per cambiare. La vita è sottile come un filo. A Mosca c'è la neve. I bambini giocano, un vecchio piange piano. Un giovane in braccia alle armi. Il cielo è nero di muvole e tuoni, di bombe sulle case e carri armati sulle strade. E di questo tempo, cosa ci rimane? Pasquetta 98 Sento carne d'arrosto lontana, profumi di letame, di cani spulciati all'ombra, di preparativi. Rivedo visi di famiglia e ricorrenze importanti in campagna. Rivedo le mie ginocchia sbucciate nel capanno di lamiere. Le urla di mia madre per correre in tavola. Il sangue che colava lungo la gamba. Mia nonna su una sedia. La sicurezza di sentirsi piccoli, di sbagliare, di farsi male. L'inadeguatezza di fare gli adulti, di creare calore, di prestare attenzioni. Sono diventato il bambino che ha cercato la fioritura in autunno, ma in autunno cadono le foglie, appassiscono le voglie. E rivedo ancora la mano di mio padre sulla brace, un vento che aizzava carboni ardenti e gatti randagi che scappavano rincorrendosi. Il vecchio trattore è lasciato in garage a sonnicchiare. Una vecchia Grundig passava la messa del Papa. Poi il giornale radio. La semplicità di essere piccoli, spontanei, come chiudere gli occhi alla tv. E la difficoltà di essere adulti. E chi non la sente? O è un irresponsabile? O un genio. Sento carne d'arrosto lontana. Carne d'arrosto lontana, d'arrosto lontana, lontana. Il ticchettio della lancetta arrogante spunta già prima del respiro, rincorrendo la data presunta. Primo vagito, countdown attivato, è il primo regalo per ogni neonato. Insolente, misuri in ogni momento di ogni cosa, rilevi l'andamento. Tempo, severo dei ritmi di ogni cosa, sei ora di essere madre oppure sposa. Veloce, sei in tempo o fuoricorso? Ops, se ne è andato. È rimasto solo il rimorso. Posso guadagnarti, sprecarti, ma mai comprarti. nostalgico è chi vive solo per raccontarti. Chi ha l'ansia del futuro, chi saggiamente è nel presente. Ma nessuno accetta che tu possa finire. In un soffio, o lentamente. Tempo insolente, tempo invadente. La durata del mio passaggio per te non vale niente. Appena sveglio, sono già in ritardo. E tu camminando mi guardi e ridi, comparebbe fardo. Caro tempo, non guarderò la mia vita dietro i vetri. Ogni tuo secondo sarà importante, come per una corsa dei cento metri. E se ti perderò, non sarà mai un successo. Preziose sono le pause se per cercar se stesso. Me lo hai insegnato tu. E che, proprio sul più bello, ti sei mostrato per quel che sei. Un vile tranello. Applausi. 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 Bene. Allora, adesso Chiara e Giulia hanno l'opportunità di dialogare, insieme a Maria Grazia Calandrone, sulla poesia. Passo a voi, che mi guardi male. Come mia figlia che mi guarda proprio con un aria. No, va bene. Allora, è incredibile che tu abbia 12 anni. Perché c'è un passaggio in particolare che mi ha colpito di questo tuo testo. A Mosca c'è la bene. Allora, è vero che noi oggi viviamo in un mondo, nel villaggio globale, di cui tanto se ne abbiamo parlato. Però che tu, alla tua età, abbia aperto uno sguardo. È chiaro che tu le notizie le ricevi dal giornale, dalla televisione, da internet, insomma da tutti i mezzi. Però che tu riesca a non concentrarti sul tuo io e facci entrare quello che sta fuori di te, come in questo caso appunto a Mosca c'è la neve. E poi tutto questo piccolo discorso che tu fai, senza fare nessun moralismo. Semplicemente raccontando come stanno le cose, avendo fiducia che il lettore capisca che se tu metti in scena una serie di scene di guerra, evidentemente il risultato sarà quello del ritrarsi. La domanda che ti voglio fare, a parte questa sensibilità malinconica che tu hai, che mi piace molto. Cioè mi dispiace per te, però mi piace molto. Cioè in poesia funziona, funziona molto bene. Perché scrivi? Perché ti è venuto in mente di scrivere? Così piccola come sei? Perché, diciamo, è una passione di coltivo fin da piccola. È una storia. C'è una storia. Quindi ho parlato di quello che sta succedendo adesso. Perché è il nostro tempo. È ciò che stiamo vivendo. No, no, infatti è giusto. Giusto. C'è questo... Questo esordio, ora non c'è più tempo, tempo per cambiare. In effetti di fronte allo spettacolo che tu ci manifesti, che è quello che tu vedi, ci sta questa nota così, no? Ma che abbiamo fatto? Brava. Molto brava. Eh, devo parlare di Antonio? Che non c'è? No. Vabbè, di Antonio posso dire due cose che mi ero appuntata. Allora, mi sono piaciuti molto i dettagli che, per esempio, questa gruntiche, no? Che è la radio che trasmette... Forse tu no, perché no. Però, insomma, chi ha la mia età sa di che cosa stiamo parlando, no? Era una marca di radio che trasmetteva, appunto, evidentemente, nella sua infanzia la Messa del Papa, la radio che avevano a casa. E qui c'è, vabbè, l'avete sentita, questa descrizione nostalgica del tempo infantile e della fatica, della responsabilità di essere adulti. Che evidentemente, però, c'è già una notizia di qualche cosa che non funziona quando scrive sono diventato il bambino che ha cercato la fioritura in autunno, no? Questo scambiare il tempo, il tempo del cadere con il tempo del nascere, evidentemente è una vecchia storia, diciamo, per Antonio Calabrese. Però lui non mi può dare nessuna risposta perché non c'è, non so se i suoi parenti ne sanno qualcosa, ma... Dell'arrosto. Esatto. Esatto. Ma questo arrosto, poi, non so, perché sente questa carne d'arrosto lontana come se adesso fosse diventato vegetariano. non lo so, non si sentisse più. Però è un testo, anche questo, anche questo, no? È un testo malinconico, è un testo che guarda al passato con nostalgia, con... quasi appunto con la fatica di essere nel presente che invece tu non senti. cioè, tu senti, lo guardi questo presente per quanto così faticoso e orribile sia. Chiara? Allora, Chiara ci fa una filastrocca. No. Ci fa una filastrocca in rima baciata dove ci spiega che c'è niente da fare, che c'è questa tassa da pagare, no? Dalla nascita, in realtà, dal concepimento. Cioè, dal primo momento in cui veniamo concepiti, c'è questa tassa da pagare. Quindi affronta il tema dal... con una... con una certa ironia, no? Primo Vagito Cantaun ha attivato il primo regalo per ogni neonato, appunto, è stato letto. Con una certa ironia, però anche con una riflessione, no? A un certo punto tu dici, se ti perderò non sarà mai l'insuccesso, preziose sono le pause sempre per cercare se stesso. Quindi, insomma, anche sto tempo è un elogio del tempo perso, no? Un elogio del tempo perso nel senso guadagnato nel momento in cui questo tempo viene impiegato per una autoriflessione, per qualche cosa che non è soltanto lasciarsi scorrere addosso questi inesorabili minuti, ma farne tesoro, no? Questo... Ok. Allora, io scrivo spesso filastroche e lo faccio per uno scopo soprattutto terapeutico, perché normalmente una filastrocca nasce quando c'è qualcosa che non va. Casualmente, io non conoscevo questa associazione, quindi mi trovo qui veramente per caso, un'amica mi dice Chiara, ma perché non scrivi una filastrocca sul tempo? Poi avevo questo cartoncino, quella parola tempo, sotto il mio computer. E, effettivamente, non era un periodo particolarmente facile, perché sono rego c'era una cosa brutta che era un aborto. in realtà adesso probabilmente c'era proprio la mia data presunta era adesso. e quindi ho riflettuto tanto sul tema tempo, perché ho 40 anni e quindi mi sono sentita, quando è successa questa cosa, proprio fuori tempo. e quindi mille ragionamenti, ma qui faccio i conti, e sì, vabbè, ma io se poi ci riprovo, poi sarà vecchia, così, quindi la testa che va, va, va. E poi, avendo una mente molto matematica, che ho fatto, come spesso succede, ho cercato di semplificare il problema. E quindi, una cosa complicata, non resa facile, poi una filastrocca quasi infantile, perché alla fine queste rime baciate sono tutte così, però in genere spesso nascondono qualcosa di più forte. e niente, e quindi ho deciso che bisogna prendersi del tempo, anche quando sembra che, diciamo, dal punto di vista razionale questo tempo non c'è, che 40 anni in un'età avanzata per diventare mamma, per esempio, no? Secondo un'idea, o secondo quello che ci dicono. Io l'ho fatta, Anna che compare nel libro, ho 43 anni. Infatti, alla fine mi arrabbio, perché dico, noi dobbiamo avere il tempo per essere madre, il tempo per essere sposa. Ma questo tempo cos'è? Questa cosa che addirittura appena nasci già parte, e non c'è tempo, ti svegli ed è tardi. basta, quindi sei un vile tranello. Faccio una domanda. Questa questione del dolore dell'aborto, tu l'avresti detta senza il tramite della poesia? Allora, ritengo che questa sia proprio un'opportunità. Cioè, io vedo oggi una sorta di dono, di opportunità che altrimenti non avrei mai avuto, e non mi vergogno a parlare. Cioè, credo che parlarne, raccontarlo come soffrire, io cerco di non guardarli perché ovviamente per me è un'emozione, però raccontarlo tramite un testo è il mio modo per lasciarlo andare, per trovare una strada. E per questo ritengo che, nonostante la mia formazione sia distante da quella, diciamo, della letteratura, perché io sono laureata in economia aziendale, faccio sempre conti, eccetera, eccetera, eccetera. Ritengo che invece sia uno strumento fantastico, quindi sono davvero felice di essere qui ora. La metrica fa i conti, eh. Quindi... No, grazie, grazie. Di prima cosa soltanto c'è anche, ora mi fa venire in mente questa questione, la Michela Puggia, no? Che, insomma, che sta affrontando anche lei. Grazie. 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 Ecco, viene da dire grazie. Grazie a questa tragedia che sta attraversando, sta affrontando anche lei dei temi cruciali per la nostra società. La famiglia, la malattia, la morte. Ecco, tu, grazie alla scrittura, metti, no? Ci racconti questa esperienza. Quindi, in questo senso, ecco, sono d'accordo con te. La scrittura è terapeutica, non soltanto per sé, è un modo anche per stare insieme e per affrontare dei nodi cruciali della nostra società, perché appunto c'è da vergognarsi. Grazie. 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 Andiamo? Sì. E noi andiamo avanti. No, no, c'è una consegna bella. Nel libro di me. Hanno vinto un libro. Hanno vinto un libro, sì. Uno a caso. Bene, e noi andiamo avanti sempre nella sezione poesia, con una selezione tra quelle che sono pervenute nella sezione fuorizona. e sono due. Sono la poesia Kronos di Angela Iannarelli. Applausi. Applausi. Allora, Angela è di Semise, provincia di Potenza, sempre Basilicata, e ha miracolosamente, qui leggo, 57 anni. E' un'insegnante di sostegno. E insieme a lei c'è l'altra poesia selezionata, si chiama Malatia di Francesco Sant'Arcangelo. Allora, Francesco ha 18 anni, è uno studente del liceo linguistico Tommaso Stigliari di Matera, è residente a Montescaglioso, Basilicata, e ascoltiamo queste due poesie. Applausi. Grazie. 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 Cronos. Gocce di stalattiti. Gli attimi, gli anni, fluiscono a comporre secoli. Lacrime di resina ambrata si depositano nel cosmo, costruiscono, edificano i pensieri progettati da Dio, distillano l'infinito, mentre noi, qua giù, ignari, restiamo in bilico tra un'ora e l'altra. Distanti stalagmiti dalla perfezione divina, vedita di Adamo, imperfette, protese al mistero, e intanto scivolano le ere. Grazie. 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 leggere anche. Allora, questi due testi ci offrono l'opportunità di dire due cose, di parlare questo, io lo faccio vedere perché c'è una, vedete com'è sottile, c'è una coincidenza che mi interessa molto tra la forma e il contenuto, nel senso che è un testo che parla di gocce, di cose che colano e il testo stesso è costruito in questo modo, come se fosse una collatura sulla pagina. Per esempio, questi versi che ho sottolineato, distanti stalagmiti dalla perfezione divina, le dita di Adamo imperfette, protese al mistero, raccolgono evidentemente il senso che tu dai all'umanità, il senso di perfettibilità dell'umano che tende a scavalcare se stesso fino a raggiungere e usa appunto questa metafora della metafora, non similitudine, non c'è come, delle stalagmiti di questa mano che tende al divino. È consapevole, questa è la mia domanda, no, non è consapevole il contenuto, è consapevole il fatto che la forma coincida con... Scusate, ho andato a parlare ad alta voce a scuola con i ragazzi, sono convinta che mi ascoltano e si sente la voce. L'immagine che avevo di fronte era proprio quella del capolavoro, no? Di Dio che cerca di toccare le dita di Adamo e come la ragazza prima che ha parlato dell'elaborazione del dolore, anche per me la poesia in questo caso è stato un modo per superare quell'impotenza e quella rabbia che noi esseri umani proviamo di fronte alla nostra finitezza, di fronte al fatto che siamo fallibili, che siamo mortali e che tutto questo ci fa, più delle volte penso io, è la causa della violenza che poi riversiamo gli uni contro gli altri e non solo la guerra di cui ha parlato quella bambina che a 12 anni evidentemente ha subito già, ha dovuto elaborare questa cosa così grande, ma la violenza anche più piccola tra di noi, le piccole invidie, le gelosie, il dolore, la malattia, la morte, i lutti che dobbiamo elaborare con l'andare avanti negli anni, la malattia personale è quella ancora peggiore che tocca a chi vogliamo bene, le perdite delle persone che amiamo e a un certo punto la poesia ci aiuta ad elaborare e a salvarci, ad accettare tutto questo perché ho cominciato a pensare che in effetti le nostre vite, in bilico tra una ora e l'altra, non sono nulla se pensiamo a tutte le ere che abbiamo alle spalle, a tutte quelle che ancora verranno e se avessimo la possibilità ogni volta quando ci sentiamo sopraffatti dal dolore, dalla rabbia, dalla violenza perché siamo esseri violenti, veniamo violentemente alla vita credo e siamo violenti in tutto ciò che facciamo, in tutte le nostre manifestazioni, credo che se riuscissimo ad osservarci allontanandoci dall'alto ci renderemo conto di quanto siamo piccoli, infinitamente piccoli, di quanto poca cosa sia la nostra esistenza eppure le nostre dita sono sempre protese verso questa immortalità che desideriamo, questa perfezione che io mi sento sfuggire come ci sfugge la vita, come il tempo e siamo tutto e siamo niente di fronte alla grandezza di questo Dio che ci governa e tra l'altro siamo casualmente nella casa del Signore e pensavo proprio questo scrivendola, che siamo veramente meno di un battito di ciglia dei pensieri di questo Dio che ci sovrasta e questo non ci ha mai fermato però dal cercare la nostra immortalità e il nostro senso, di dare un senso compiuto a questa nostra vita. Quindi la poesia in qualche modo è un canale virtuoso dove mettere tutta questa riflessione che altrimenti ci agisce. Insomma è vero, è anche questo, è anche un modo per toccare gli altri proprio nello stesso punto, quindi farci riflettere mentre riflettiamo, chiunque scriva, far riflettere chi legge su questi temi che è il tema, quello del tempo che è uscito fuori e quindi della morte perché poi sotto tutto questo, di questo stiamo parlando. Quindi morte, malattie, tutte queste delizie che ci toccano in quanto esseri umani. Quindi metterli in dei versi significa non farsene sopraffare. Mi sono sentita particolarmente chiamata in causa perché è appena due mesi che sono riuscita a realizzare un sogno che è quello di pubblicare una raccolta di poesie che casualmente si chiama Saturnia, Kronos, il mio Saturno, mi è sembrato che dovessi partecipare a tutti. Un piccolo segno insomma, che fosse un cerchio che continua, una benedizione che continua a sempre, mi sento io far parte di questo periodo dell'anno. Beh auguri per la raccolta. Grazie, ma mi sarò tutti. Allora, altro argomento del quale ci offri in questa coppia, l'opportunità di fare di parlare è il dialetto questa cosa straordinaria di vedere un ragazzo così giovane che usa la lingua, una lingua arcaica allora io personalmente ma questo nulla significa, lo dico così tanto per dire, amo moltissimo la scrittura di poesia dialettale, anche se non è una poesia, è una tra le poesie meno frequentate meno pubblicate anche se c'è la traduzione sotto, però invece io io ti dico questo, la maggior parte dei poeti dopo aver cercato per tutta la vita la propria voce averla trovata, aver espresso tutto quello che devono esprimere alla fine della loro vita o verso la conclusione della loro vita cercano disperatamente puro suono allora a me personalmente interessa poco il significato della poesia mi interessa sentire la lettura vuoi sentire il suono che poi si capisce insomma non è così oscuro e tra l'altro è molto bello questo, anche in italiano questi due versi rendono benissimo il fuoco piano piano muore si spegne come il sorriso di una mano questo evidentemente tu lo sai che affondi affondi nell'emotività però ecco la domanda che ti faccio è come mai hai scelto questa lingua? innanzitutto perché è la nostra lingua del mio paese e poi perché per il senso a cui ho dato la poesia è praticamente azzeccato perché ha un senso di è crudo il dialetto è crudo e diretto quindi è proprio come il tempo che ci prende un po' alla sprovvista e poi ha un suono molto particolare rispetto appunto alla versione italiana che comunque secondo me vale molto di meno è tua la versione italiana? sì, sì ti piace non esserti altro? no, no però chiaramente secondo me assume più valore con i suoni appunto del dialetto sono completamente d'accordo assume più valore in dialetto e tra l'altro è una poesia di ribellione nella quale tu anche nel senso della poesia allora a parte che il dialetto viene dal tempo quindi ci entra anche nel senso e poi appunto tu dici vabbè io non lo so dire ma ci l'ha detto che mi ha scappato eh, esatto infatti è un po' un grido di rabbia verso il tempo che appunto ci rincorre come una rincorsa infatti l'ho chiamata malattia proprio perché assomiglia molto alla malattia cioè qualcosa che ci ci disgrega lentamente sulla quale non abbiamo alcun governo ci distrugge siamo tutte arrabbiate col tempo diciamo ci fa venire fuori eh, per forza per forza grazie allora per chiudere questa sezione poetica eh, chiamo Maria D'Agostino che è presidente dell'associazione Matera Poesia 1995 che annuncerà la poesia che riceverà la menzione speciale in occasione della serata dedicata al concorso una cartolina da Matera prego grazie, buonasera eh, in virtù di questa collaborazione che ormai da anni abbiamo con l'associazione Amabili Confini oltre a selezionare queste poesie che sono state presentate stasera abbiamo deciso che il 22 ottobre eh, che sarà la giornata in cui che premeremo per il nostro poporso una cartolina da Matera appunto riceverà una menzione tra le poesie che abbiamo ascoltato malattie di Francesco mi scusate tutto il mondo, scusami Sant'Arcangelo quindi segnati questa data perché il 22 sarai presente con noi alla premiazione avrai tutte le notizie per raggiungerci e riceverai una menzione nell'ambito del premio a una cartolina da Matera va bene? Allora, dopo la poesia eh, la prosa perché siamo adesso nella sezione i racconti dei quartieri eh, ci riferiamo a quei racconti che sono pervenuti dalla macroarea che comprende tre quartieri di Matera esattamente Spine Bianche Piccianello e ovviamente Serra Venerdì e sono stati selezionati due racconti che sono Impavido Cavaliere di Giuseppina Moliterni Giuseppina Giuseppina ha 14 anni Scusate è una serata sul tempo allora, sì sì, sì sì, sì sì, sì è laureata in scienze e servizio sociale insieme a lei l'altro racconto selezionato è Sirio ed Europa di Ginevra Appio che ha di Ginevra evidentemente 14 anni ed è studentessa del liceo classico Duni di Matera ascoltiamo due estratti dai vostri racconti Impavido Cavaliere sarebbe meglio non conoscerlo sarebbe meglio non toccare con mano tutta la sua fugacità e la sua inafferrabile concretezza perché di fatto di concreto non resta nulla un giorno passa un altro segue in fila composto scandito dal percettibile mutamento della luce che ci avvolge e che ad un tratto scompare e quando inizia il mattino basta un non nulla e subito fa sera e i giorni trascorrono e il tempo beffardo continua la sua corsa verso l'eterno Sirio ed Europa il giorno dopo non sapeva se andare in spiaggia aveva paura di dire o fare qualcosa di sbagliato davanti a lei ma Europa è una ragazza genuina lei legge le persone come un libro aperto le capisce nel profondo fino a raggiungere le parti più rimonte della loro anima da quella sera e per tutte le altre sere hanno iniziato a parlare passare il tempo con lei ha permesso a Sirio di provare come ci si sente quando si è felici lui non sperimentava la felicità da molti anni ormai ma di Europa si fida sa che lei può fargli scoprire ciò che non ha mai potuto scorgere era come un cieco che vedeva sempre solo ciò che voleva vedere grazie ad Europa ha fatto caso a quanto fosse bello sentire l'onda del mare a quanto fosse misteriosa la notte a quanto fossero maestosi gli alberi i suoi occhi e le sue orecchie hanno permesso a Sirio di capire quanto sia bello il mondo e pian piano la sua lotta contro il tempo stava rallentando allora Giuseppina allora il racconto vi chiamiamo racconto di Giuseppina è inversi diciamocelo io ve lo faccio vedere oh e ovviamente questa cosa mi interessa molto perché tu io non ho capito se erano due concorsi diversi uno per la poesia e uno per il racconto ecco quindi tu hai scelto di mandare una poesia al concorso per il racconto nel senso non è precisamente una poesia è una poesia però è un racconto una poesia narrativa quindi insomma un racconto nel quale tu evidentemente senti continuamente il bisogno di andare a capo ecco perché allora non è non era voluto non era intenzionale man mano che scrivevo allora sicuramente quando sono partita nello scrivere mi sono domandata cosa dire sul tempo perché il tempo comunque è tante cose lo stiamo vedendo anche stasera dai racconti dalle poesie totalmente diverse ma che in fin dei conti per ognuno rispecchia un po' comunque quella che è la rabbia nei riguardi del tempo che appunto è inafferrabile non riusciamo mai a coglierlo nel momento che più ci possa sembrare interessante quindi all'inizio è partita un po' così una mia analisi nei riguardi del tempo che io percepisco con rabbia posso dirlo in maniera genuina man mano che scrivevo comunque sentivo la necessità un po' di dividere i miei pensieri quindi se sono partita parlando del tempo in maniera negativa poi ho affrontato una mia autoanalisi quindi ho capito man mano cos'è il tempo realmente e quindi ho cercato di fare una riflessione per cui in qualche modo ho pensato che fosse importante dividere le parti per far comprendere meglio ciò che volevo esprimere insomma in questo modo era un modo per esprimermi nulla non era voluto questo sicuramente scusami quindi anche il fatto che tu cioè questi sono versi non è il fatto che tu a un certo punto scrivi per esempio vi leggo attraversando sconfinati spazi virgola a capo mondi inesplorati virgola a capo terre che riflettono i caldi raggi del sole sovrastante virgola a capo acqua impenetrabili virgola a capo cieli irraggiungibili punto a capo volevo dare valore sì ok quindi ciascuna di queste frasi diventa un verso perché tu desideri sottolinearla esatto e questo è peraltro come dire una delle ragioni per le quali in poesia si va a capo ma è anche vero che per esempio appunto mentre leggevo terre che riflettono i caldi raggi del sole sovrastante è tutt'uno no quindi il verso libero ovviamente segue non essendoci più prima stavamo scherzando sulla metrica che è matematica effettivamente è così ma non essendoci più una matematica fissa evidentemente il verso libero ci permette di espandere nel momento in cui tu hai voglia di dire terre che riflettono i caldi raggi del sole sovrastante quindi ci stai dando un'immagine pianeggiante che va in cui l'occhio va più lontano rispetto a mondi inesplorati per esempio allora appunto puoi utilizzare un verso più lungo e poi i paragrafi tu mi dici appunto ci dici sono motivati dal fatto che hai voluto suddividere quindi da quello che capisco mentre scrivevi tu sapevi cosa andavi scrivendo è stata una riflessione e appunto scrivendo mi rendevo conto che per ogni parte bisognava dare la propria importanza perché per ogni parte c'era un susseguirsi di riflessione collegata senti ma scrivere questo racconto chiamiamolo racconto questo che partecipe alla sezione racconto ti ha servito a placare questa rabbia nei confronti del tempo a me sicuramente confermiamo quello che abbiamo detto poc'anzi sul valore anche nella condivisione con altri effettivamente si poi chiudi dicendo impavido cavaliere per ogni battaglia che dovrai affrontare permettigli di essere il tuo protettore diventa addirittura quello che ci protegge piuttosto che quello che ci perseguita e ci pongola e ci porta dove non vogliamo andare grazie Ginevra ha scritto una parabola sull'amore una cosa molto bella molto molto ben scritta dall'altro prego l'amore che a un certo punto diventa un insegnamento dell'attesa certo tu lo dici proprio esplicitamente l'amore attesa dell'altro e l'amore che spezza una solitudine millenaria di questo poverino bistrattato sirio è effettivamente un racconto appunto molto bello e a un certo punto tu scrivi una specie credo di confessione le opere sono lo specchio dell'anima dell'autore vale anche per te questa è la mia domanda sì quando magari mi ritrovo specialmente a scrivere perché è una cosa che mi piace molto anche se non parlo magari di esperienze mie comunque cerco sempre di metterci diciamo un pezzo di me ovviamente per esempio in caso di questo racconto cioè ovviamente mi sono lasciata ispirare non soltanto dal tema o comunque anche dal libro che ho letto ma anche dall'esperienza mia in prima persona perché si sa che durante l'adolescente mi amore è tutto quindi diciamo che sì con questa con questa frase parlavo anche di me parlare anche di te sì allora però è evidente che tu sei di proprio a scrivere me lo confermi per esempio la debole luce delle sette di sera le sette di sera mi sono un sacco oppure grazie questo già è stato letto prima grazie ad Europa ha fatto caso a quanto fosse bello sentire le onde del mare a quanto fosse misteriosa la notte a quanto fossero maestosi gli alberi e poi tu racconti e evidentemente ci confermi che è quello che fai tu racconti di questo tutte le sue emozioni tutto il suo dolore scorrevano ai tratti della matita perché questo ragazzo disegna disegna e poi leggete perché è molto carino e poi tu scrivi si limitava mentre ammirava i disegni di Sirio questa sua quella che lui ambisce sia la sua innamorata si limitava ad un atroce silenzio un silenzio di mille parole quindi c'è questa osservazione da parte della ragazza che lui ragazza dea semi divinità e poi qui va bene questo l'abbiamo detto il tempo come l'amore è ingestibile dici però non vi dico come va a finire perché le ultime righe sono veramente molto belle però non ve le leggo perché se no sapete come va a finire se poi quest'amore sarà felice o meno lo dovete leggere no però continuo a scrivere perché mi sembra che che ci siamo questo è un racconto un proprio racconto senza me in realtà grazie allora siamo a noi adesso io chiamo intanto subito un altro ospite di questa sera che è Bartolomeo Smaldone che è un poeta nostro vicino di casa perché Altamura è il paese più vicino in assoluto in Matera pur essendo in Puglia e quindi abbiamo con Altamura moltissime relazioni perché siamo proprio vicini di casa ma lì c'è un po' di competizione è più buono il pane di Matera dentro da Altamura campanili allora si dialoghiamo con Maria Grazia Calandrone su questo bellissimo libro dove non mi hai portata che ripeto è uscito l'anno scorso per i tipi di Ainaudi e ripeto è nella dozzina finale del premio strega io penso che sia utile leggere subito una Sara dov'è ecco un estratto anzi è proprio la prima pagina si chiamava Lucia di mia madre ho soltanto due foto in bianco e nero oltre naturalmente alla mia stessa vita e a qualche memoria biologica che non sono certa di saper distinguere dalla suggestione e dal mito scrivo questo libro perché mia madre diventi irreale scrivo questo libro per strappare alla terra l'odore di mia madre esploro un metodo per chi ha perduto la sua origine un sistema matematico di sentimento e pensiero così intero da rianimare un corpo caldo come la terra d'estate e altrettanto coerente comincio da quello che ho le due fotografie che la ritraggono nell'ordine in cui sono apparse nella mia vita la prima è stata scattata nel giorno del suo matrimonio sabato 17 gennaio 1959 Lucia ha 22 anni veste in bianco integrale e non sorride un giorno guardando questa foto fino a far scomparire le immagini e apparire la realtà dietro le cose che chiamano poesia ho appuntato su un ritaglio di giornale quattro frasi che diventeranno chiare scrivendo questo libro si chiamava Lucia pochi avevano a cuore la sua vita oggi è il giorno del suo matrimonio qualcosa di lei non esiste più la seconda fotografia è il rettangolo di pochi centimetri incollato sulla carta d'identità trovata nel giugno 1965 in una borsetta abbandonata in Roma mostra una giovane donna piuttosto bella persuasa di sé vestita con maia e giacca nera orecchini e collana d'oro un'eleganza semplice lo sguardo è sincero aperto e remoto nonostante Lucia sorrida appena il labbro inferiore un po' sporgente dà all'intero viso un'espressione infantile di la mente imbronciata ricorda Claudia Carbinale nella ragazza con la valigia di Valeria Zurlini non so quanti anni abbia in quella foto nello scatto dove Lucia veste in nero l'espressione fotografia scrittura di luce scrittura con la luce appare corretta nella fotografia in bianco lo sguardo della sposa risucchia l'intera scena in una vitre assenza di vita Lucia fa gli occhi lisci della preda che finge di non esserci arretra in uno sguardo impenetrabile dove il mondo è un paesaggio di bestie e guzze senza sogni addormentate fuori dalla natura e su quegli occhi aperti il mondo scivola non posa più allora cercando di non svelare troppo di quello che è poi lo svolgimento della della storia di Lucia e proverò a dire proprio l'essenziale la storia è questa abbandonata a otto mesi di vita da Lucia che è la madre e da Giuseppe che è il padre che scelgono di andare via in circostanze che non sono molto chiare questa storia finisce su tutti i giornali e la la bambina abbandonata che viene poi adottata e vive la sua vita di donna e si realizza come donna dopo più di 50 anni sente il bisogno di indagare sulla storia della madre e lo fa utilizzando come abbiamo sentito tanto stasera lo strumento che forse più si presta a compiere questa questo rito questo passaggio questa necessità della scrittura prima di scrivere però si mette in viaggio e per un anno e mezzo va sulle tracce di Lucia di questa donna di cui sente il bisogno di sapere di più e dopodiché nel giro di tre mesi scrive il la storia che ha inseguito e scoperto e diciamo la vicenda umana di Lucia viene ricostruita grazie alla disponibilità dei di tanti testimoni che l'autrice scopre essere stati presenti nella vita di questa donna e quindi tante persone che si si mettono a disposizione della di questa necessità di sapere e mi è molto colpito però anche la presenza di una tredicenne una la terza generazione Anna che è la figlia dell'autrice che la accompagna decide di accompagnarla in questo suo viaggio e che intuisce alcune importanti verità che che sono ancora nascoste agli occhi dell'autrice allora forse è una domanda retorica da mia qual è stata la molla che ha fatto scattare dopo 50 anni questa questa necessità di come dire di di mettere una parola con una a una a una verità possibile sappiamo che non esiste verità assoluta ognuno di noi forse va alla ricerca di verità possibili e poi il ruolo fondamentale che ha giocato Anna perché mi sembra proprio il passaggio di testimone da una generazione all'altra perché grazie a una ragazza di 13 anni una nipote che scopre tanto di una nonna che non ha mai conosciuto però offre alla madre anche elementi per poter ricostruire la storia di sua madre sì intanto grazie per la lettura molto bella grazie allora l'esigenza in realtà io non avevo nessuna voglia di affrontare questo grande fantasma madre morta quando è morto quindi sì insomma ho fatto tante cose nella vita scrivo c'è figlio però c'è stato c'è stato il confinamento da covid quindi ho scritto un libro su credevo di aver scritto un libro su mia madre consolazione la mamma adottiva una volta che il libro è stato stampato e ho ascoltato e ricevuto le reazioni delle persone mi sono resa conto di aver scritto un libro sull'adozione cioè sulla relazione con una madre adottiva ma per me era talmente esclusivamente lei mia madre che non ci avevo neanche fatto caso a questa cosa sono andata a presentare questo libro in televisione e ho raccontato parlando di lei per forza di cosa ho raccontato perché fosse stata adottata cosa era successo prima e evidentemente quella trasmissione era seguita ho scelto ecco questo io non l'ho scritta non l'ho detto ho scelto di andare da Serena Portone e non in un'altra trasmissione perché mi piaceva quel tipo di pubblico mi piaceva raccontare questa storia delle persone che sapevo avrebbero avuto una sensibilità anche emotiva e infatti mi hanno quando sono tornata a casa ho trovato un sacco di messaggi di persone che avevano conosciuto mia madre Lucia e che volevano parlarmi di lei quindi ovviamente per un colpo perché non me lo sarei sinceramente mai aspettata e quindi ho detto questa cosa immediatamente appunto a Serena allo staff sono andata di nuovo in trasmissione e poi però ho detto a Uma ma sapevo che avrei dovuto affrontare una cosa faticosissima infatti poi c'era il covid e il Molise era particolarmente colpito in quel momento per cui da febbraio sono poi andata ad agosto insieme con i miei figli e lì però quando ho cominciato non mi sono potuta fermare più perché ovviamente si accumulavano notizie su notizie ma io non avevo intenzione di scrivere un libro cioè io sono andata a sapere cosa su mamma ma siccome tutte le informazioni che mi arrivavano erano informazioni di una grande sofferenza cioè di una persona simpatica vitale che però era costretta dal pregiudizio da leggi che ancora non c'erano in una situazione di di sofferenza costante mi sono arrabbiata perché ho capito che storie del genere sono ancora attuali e quindi ho deciso di scrivere e poi i fatti mi hanno dimostrato ma anche i fatti di questi abbandoni di cui si sta tanto parlando ultimamente mi dimostrano purtroppo che storie del genere sono ancora attuali ovvero che ci sono tante famiglie che non sono in condizione di poter tenere i propri figli io non credo contate ci sono 3000 abbandoni l'anno circa non credo che ci siano 3000 madri che non hanno voglia di stare con i propri figli ci saranno forse 10 madri che non hanno voglia di stare con i propri figli ma ci saranno un numero elevatissimo di madri e padri che non sono in condizioni sociali e morali di poter tenersi ragazzi quindi io spero che questo libro possa servire un po' non lo so spero lo spero e Anna 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 è venuta con me perché le piace viaggiare perché facevamo un viaggio con la macchina e mettevamo la musica eccetera poi però siamo arrivati appunto in questo paese del Molise e subito le hanno detto ma quanto somiglia a Lucia e quindi lei piano piano si è coinvolta in questa storia è voluta venire lei in tutte le altre tappe ed ha effettivamente avuto due intuizioni su due punti fondamentali di questa storia cioè uno perché sono stata lasciata in un prato e non in un prato un brefotrofio o una chiesa insomma in un luogo più consono all'abbandono diciamo e due perché a Roma visto che i miei genitori vivevano a Milano e io sono nata a Milano che bisogno c'era secondo le ricostruzioni loro sono stati a Roma due ore cioè sono venuti giusto il tempo per uccidersi e Anna mi ha spiegato perché passo la parola dunque è complicato parlare di questo libro perché citando un romanzo di Holiday Hall alla fine è nota conoscendo la fine e sapendo che si tratta di una storia vera di cronaca tra l'altro sia pur lontana relativamente nel tempo leggere questo libro richiede uno sforzo emotivo notevole da questo punto di vista è psicologicamente faticosa la lettura non perché il libro lo sia il libro è così appassionante che si legge in un arco temporale davvero breve dimenticandosi del tempo si legge in un attimo e quindi questa è la connotazione di questo di questo romanzo ed è una tara una tara importante dal punto di vista emotivo in tutta questa storia che ha tanti protagonisti evidentemente la figura che si staglia su tutte le altre è quella di tua madre di Lucia nome tra l'altro bellissimo non fosse altro perché era anche il nome di mia nonna ed è il nome di mia sorella ma per il valore simbolico che ha questo nome che ci rimanda naturalmente alla luce con tutte le implicazioni che la luce ha c'è questa figura che si staglia per tante ragioni io dico che Lucia è stata una una donna eroica eroica leggendo della sua vita sofferta triste di quel cortocircuito iniziale dell'amore incompiuto giovanile con Tonino una vita veramente molto molto sofferta e con una forza d'animo notevole che le ha concesso in ogni circostanza di trovare una qualche soluzione anche anche alla fine leggendo di lei mi veniva in mente non a caso ho detto epica la figura mi veniva in mente o mitologica se vogliamo Alcesti ad esempio che ad un certo punto decide di sacrificare la sua vita per permettere a quel vile del marito di continuare a vivere ecco quando è giunto e lei lo sa e lo sa anche Giuseppe quando è giunto il loro ultimo momento c'è un'immagine che mi ha completamente folgurito e che io metto al di sopra di tutte le esperienze che ho fatto leggendo questo libro l'estremo senso del pudore di questa donna di fronte ad un momento estremo ed irreversibile perché fa una cosa io l'ho trovata proprio antica arcaica che va oltre proprio la concezione della vita della morte e diventa quasi astratta cioè sapendo quello che sta per fare che stanno per fare non so se devo dire quello che stanno per fare comunque no non è importante il come sapendo che sta per compiere questo gesto estremo indossa un costume da bagno e sopra al costume mette i vestiti che io vorrei che tu da figlia ci dicessi un po' di questa di questa scelta che può sembrare forse in quest'epoca in cui si è perso completamente il senso del pudore siamo completamente spudorati narcisisti patologici questa donna che sta per compiere questo gesto estremo ha questo pensiero questa cosa mi ha commosso figura da me sì in effetti è è una delle circostanze nelle quali lei dimostra veramente chi è perché perché neanche la disperazione perché ma poi in realtà io non credo che fossero disperati io credo che fossero determinati folli completamente folli innamorati e determinati e quindi lei è stata in grado visto che evidentemente questo suicidio è avvenuto per acqua e altrimenti non avrebbe avuto senso mettersi un costume da bagno ha indossato questo costume per dignità semplicemente perché la biancheria femminile sappiamo che è bagnata insomma può dare delle trasparenze che potrebbero essere equivoche e quindi non voleva non voleva questo poi nel libro c'è una seconda parte nella quale io faccio veramente la detective smonto alcune alcune ma smonto alla luce dei fatti non perché io abbia un pregiudizio e voglia smontare le cose smonto alla luce dei fatti e di una serie infinita di informazioni che ho ricevuto alcuni elementi che erano stati scritti nei giornali tra cui appunto una frase che a un certo punto un giornalista dice forse un bagno al fiume è finito male allora a parte il povero deficiente quello che aveva il vestito sopra cosa si bagnava nel fiume col vestito cioè è chiaro che però ecco io su questo mi sono arrabbiata più di una volta addirittura è uscito fuori un titolo Maria Grazia non sa che sua madre si è uccisa per lei ora adesso noi stiamo molto attenti quando parliamo di Enea di Noemi a cosa scriviamo a cosa diciamo perché sappiamo che prima o poi queste persone forse da adulte troveranno le nostre parole troveranno le nostre video e quindi ecco quel titolo devo dire che insomma ha pesato per un po' infatti c'è anche una disamina nel libro di questo titolo un'altra cosa nella quale che Lucia e Giuseppe hanno dimostrato questa che tu giustamente chiami dignità è la lettera che loro hanno lasciato è una lettera nella quale considerate l'ultima lettera di due persone che stanno appunto per andarsene hanno deciso di andare via potrebbe essere una lettera piena di rivendicazione di rabbia di rancore di accuse niente di tutto questo è una lettera nella quale loro sono ormai oltre proprio oltre sono oltre anche se stessi si preoccupano soltanto di che io sia riconosciuta che io sia riconosciuta anche legalmente ovvero mia madre attribuisce la mia paternità al marito che non è mio padre perché i figli illegittimi all'epoca infatti io sono stata portata in beffotrofia alla nascita perché io non lo sapevo questo l'ho scoperto appunto indagando perché venivano affidati ai servizi sociali perché non c'era la famiglia canonica da accudirli per cui intanto controllavano che cosa come stavano le cose e e poi e poi parlano di se stessi quasi con distanza pagheremo con la vita quello che abbiamo fatto o indovinato un pagliato allora ci sarebbero moltissime cose da dire su questo libro veramente tante io non credo che abbiamo il libro da molto tempo però un aspetto che che mi ha molto molto colpito e che mi ha anche riportato diciamo nell'aria della lettura di una delle mie autrici preferite che è al Mirno che fa un'operazione a partire dalla sua intimità dalla sua vita privata a raccontare a raccontarci pezzi di storia avvenimenti importanti della Francia allora ho ritrovato quest'aria nella tua grandissima capacità di intersecare a partire dalla tua intimità una vicenda che ti come dire che ti ha segnato tutta la vita raccontarci e intersecare quella che è stata l'Italia negli anni 50 e 60 soprattutto nell'aspetto che riguarda il giudizio e il pregiudizio nei confronti delle donne e di quanto quella società abbia probabilmente avuto un peso decisivo nella scelta compiuta da tua madre e da tuo padre tanto che tu dici a un certo punto con una cosa che ecco quella è una pagina che mi ha intenerito e commosso chissà se fosse successo oggi se sarebbe stata la stessa fine se avessi avuto avrebbe avuto il pregiudizio quindi da un lato riconoscendo che dei progressi sono stati fatti che c'è una consapevolezza tu dici erano gli anni di lì a poco sarebbe arrivato il femminismo forse sarebbe andata in un altro modo e da un altro lato come dicevi prima molti giudizi e molti pregiudizi persistono sono ancora molto molto presenti tant'è che penso non ricordo se tu l'abbia scritto o l'ho ascoltato che hai scritto questo libro come un libro contro i pregiudizi no l'hai ascoltato non lo dico ma lo metto in scena nel senso che racconto tutte le motivazioni che hanno spinto questi queste due creature a compiere questo gesto e le motivazioni sono anche la maldicenza sono anche la violenza sono anche il fatto che non ci fosse la legge sul divorzio eccetera 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 quindi non si può quando si raccontano delle storie non si può non raccontare il contesto nel quale queste storie avvengono anche perché in questo caso effettivamente il fatto che non ci fosse la legge sul divorzio ha influito in maniera massiccia ha influito sul fatto che il marito legittimo ha potuto denunciare penalmente la moglie e lei rischiava due anni di galera per il semplice fatto di essersi quello che oggi sembra un semplice fatto di essersi innamorata di un'altra persona e di aver cercato di vivere il suo sentimento alla luce del sole cioè Lucia non ha mai voluto nascondersi e qui è stata anche la sua la sua condanna a morte perché se lei si fosse nascosta chissà quanti ce ne sono dei tradimenti invece lei lei voleva rivendicava questo addirittura ha preso le sue cose e se ne è andata a vivere con quest'uomo una cosa impensabile in un paese del Molise nel 1960 più grande di lei 30 anni una cosa impensabile cioè una follia però lei l'ha fatto è stato oggi chi lo sa chi lo sa però insomma però magari se questi i matrimoni combinati insomma i temi sono molti ma per esempio se i matrimoni combinati non riguardano più forse la nostra cultura riguardano però tante culture che vivono insieme alla nostra c'è un mio amico che insegna in scuola mi ha detto aveva letto degli stralci di questo libro ho raccontato la storia c'è una ragazza del Bangladesh che ha detto è io io a 13 anni lei è promessa sposa di un uomo e 30 quindi mi è venuto in mente mentre riportavi questo esempio della ragazza del Pagu mi è venuto in mente Montanelli che in Africa è stato decano nella prima parte di questo libro c'è una digressione molto interessante proprio sul colonialismo fascista in Africa per le ripercussioni che ha quello proprio su Giuseppe tuo padre ma su tutti quelli che andarono in Africa adesso io mi fa un po' effetto dire abbiamo molto tempo perché il tema è il tempo abbiamo detto dimentichiamocene però dire presidente ma quello che sei insomma chi sei chi sei credo che ho uno slot di un'altra domanda vero? ce l'ho lascio un po' da parte le tematiche che appartengono a questo questo bel romanzo tu sei una poetessa posto che è evidente acclarato che la differenza tra poesia e prosa sia una differenza davvero empirica tra l'altro l'abbiamo visto poco fa si può scrivere un romanzo in versi anche però è chiaro che la tua matrice poetica viene fuori da la sintassi non è quella di una scrittrice di romanzi non che questo non lo sia però la sintassi non è quella cioè il verso ha un vigore che ha una illuminazione che ha una visione una proiezione che è quella del poeta o della poetessa ma hai voluto anche che esteticamente questa cosa in qualche maniera fosse riconoscibile identificabile spezzando proprio il verso in quell'esperienza estetica che ad un certo punto all'inizio cioè quando ti capita per la prima volta ti disorienta perché ti fa pensare ad un errore di impaginazione dici mamma mia in audio hanno sbagliato ad impaginare invece no poi quando ci si si rende conto che questa cosa ricorre è bella bellissima e mi pare evidente che questo sia proprio lasciami dire un tributo al tuo essere poeta o se preferisci poetessa tutti e due gli editori hanno scritto che gli a capo apparentemente casuali sono volontà dell'autrice perché giustamente temevano che chi leggeva dall'inizio dell'immagine avrebbe pensato ma impazzite in audio impazzite allora il motivo il motivo non è programmatico assolutamente è biologico non so come dirlo altrimenti nel senso che c'è un po' quello che dicevo prima commentando appunto il racconto che va a capo c'è una necessità proprio del contenuto che si sovrappone alla forma in maniera violenta per cui quando il respiro è ampio e lungo c'è la narrazione e allora va bene quando c'è soprattutto mi sono reso conto quando si parla quando parla Lucia quando si parla di Lucia c'è un respiro spezzato c'è e poi quando in entrambi i libri in effetti nel momento della morte c'è una poesia perché probabilmente perché appunto quella è la lingua che accompagna le cose che non sappiamo e quindi però è proprio non anzi ho lottato non troppo perché devo dire che l'intenzione dell'editor ha provato a togliermi qualche virgola e poi ho detto vabbè ok rinuncio lasciamo perdere e ho lasciato le virgole come erano i versi spezzati come erano però io penso che sia indispensabile seguire la musica del testo perché questo un po' meno quello precedente moltissimo è quasi era quasi tutto in De Casseglie per Sette Nari cioè è proprio la musica il suono di fondo il suono di fondo che abbiamo nella 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 DNA sì io ascolterei ancora un brano tratto dal libro come un diorama lucia guarda la valle ancora livida è l'alba quale disegno del demonio l'ha collocata qui su questa piccola sporgenza di terra e sotto ettari di lavoro da fare a braccia per un tozzo di pane e nessuna carezza Luigi la tocca solo col forcone la spinge avanti come coi maiali ogni tanto però ha delle accensioni la massacra di calci e pugni in testa tutti sapevano che la picchiava nessuno faceva niente quando lucia se n'è andata alcune donne del paese hanno detto almeno non prende più botte all'epoca le donne venivano picchiate quasi tutte anche dalle suocere per uno nulla sì ma lì era troppo il promontorio dove poggia la casa la striscia azzurro metafisico dell'erba sotto lucia guarda guarda la vigna l'ombra verde follia dei primi pampini di tutto la colpisce l'eccedenza il troppo esistere delle cose così persuase di essere proprio quello che sono mentre lei vorrebbe sparire morire qui e rinascere davvero ricominciare tutto dall'inizio questa volta sul serio forse questa è una prova un errore chiede alle alture circostanti chiede al rosso dei rami e alla madonna santa madre fai che questa sia solo la copia sbagliata della vita mia grazie 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 posso se la mia ultima considerazione prima abbiamo parlato ascoltando le poesie e i racconti di coloro che hanno partecipato a queste edizioni abbiamo amato i buon film si è parlato molto della funzione terapeutica della scrittura e mi pare che questo sia un dato sul quale si può concordare pacificamente tranquillamente però secondo me ce n'è anche un'altra riduzione della scrittura e questo romanzo un po' secondo me comprova quello che sto provando tentando di dire che dirò cioè Lucia a me passa proprio come dire Persefone che va giù nell'arte e che poi attraverso la tua arte poetica viene ricondotta alla luce e quindi questo senso proprio necessario della contiguità della comunione tra i vivi e i morti e poi la trascendenza che possiamo raggiungere tutti insieme vivi e morti attraverso l'arte e la scrittura io credo che sia il senso proprio primario di quest'opera cioè al di là della funzione terapeutica sulla quale davvero Esiodo fu il primo a dire a teorizzarla questa funzione della poesia che doveva servire a moncire gli animi ad alleviare i dolori si è parlato si è detto tanto però secondo me c'è qualcosa che va oltre e questo romanzo credo che lo comprovi perfettamente cioè Persefone che va giù e poi viene portata alla luce in superficie dalla figlia e questa secondo me è un'immagine che perfettamente rinisce a questo romanzo e quindi Lucia è eterna e questo è non posso aggiungere nulla mi auguro che sia così ma sicuramente l'operazione personalmente non fisicamente ma quasi andata sott'acqua a riprendermela non so perché Lucia ha fatto una scelta estrema per lei per il suo grande amore ma è stata attentissima poi a scegliere tutte le condizioni migliori tra quelle che potevano essere trovate non solo per non portarla con sé ma per permettere poi una vita degna di questo nome ho preso il giornale al quale ha spedito lo letto esatto se lo leggete scoprirete un sacco di cose benissimo grazie grazie a voi grazie a voi grazie 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 grazie